Buongiorno a tutti, dirò subito quello che non intendo fare, cioè non intendo fare una ricostruzione della storia dei rapporti tra Chiesa e Stato in questo periodo che va dal 1946 in poi, perché su questo è stato detto quasi tutto, nel senso che ormai la documentazione ufficiale, soprattutto quella parlamentare, è nota e allora non vale tanto la pena di fermarsi su questo. Quanto vorrei fare una cosa un po' diversa per quanto possibile. Questo periodo che va dalla Costituzione alla revisione del Concordato, che quindi è stato oggetto come per sua natura degli storici del diritto ecclesiastico, degli studiosi di diritto ecclesiastico, degli storici dei rapporti tra Stato e Chiesa, potrebbe essere affrontato da un altro punto di vista. Ci potremmo cioè vedere questa storia come un luogo in cui verificare le varie posizioni assunte dai cattolici italiani in questo periodo, di fronte a una questione che investe anche il problema della democrazia in Italia, della idea di Stato che matura in un'epoca in cui finalmente l'Italia nel percorso dei suoi 150 anni vive in una condizione di piena democrazia. Non si può dire certo che lo Stato liberale sia stata una democrazia compiuta, non lo è ancora. Sia perché il soffragio universale nel 1913 è soltanto maschile, sia perché le organizzazioni politiche e i vari movimenti politici investono ancora settori piuttosto limitati della vita italiana. Per cui noi guardando questi 150 anni ci rendiamo conto che per la maggior parte non sono anni vissuti all'interno di un sistema democratico compiuto sul modello della grande borghesia europea, dei grandi stati europei dell'800-900. Si può dire che la coscienza cattolica viene messa alla prova in un periodo piuttosto convulso, caratterizzato da fortissime accelerazioni storiche come sono state gli anni 50 e gli anni 60, e un periodo nel quale anche cresce e matura la coscienza ecclesiale che comincia forse anche il problema di realizzare rapporti più maturi con lo Stato, con lo Stato democratico. Ed è anche questo in cui viene messa alla prova fortemente la permanenza e la forza della ideologia di cristianità che caratterizza a fondo il cattolicesimo italiano degli anni 50 e 60, forse in parte lo caratterizza ancora oggi. L'altra parte dei rapporti tra Chiesa e Stato per loro natura sono questioni che coinvolgono tanto i progetti politici quanto le effettive pratiche del rapporto stesso. La revisione di un concordato parte da idee, da prospettive, da progetti che poi finiscono per dar vita a delle scelte concrete e effettive, che talvolta sono anche molto distanti dai progetti originali, visto che i concordati per loro natura sono un patto bilaterale, in cui magari per la forza della storia una parte può prevalere sull'altra, come accade in molti concordati nella storia del Novecento, ma sono pur sempre un accordo che è frutto di compromessi in cui un po' le sensibilità delle varie parti vengono messe fortemente in discussione. Come al solito il caso italiano è un caso particolare. La storia italiana è sempre destinata ad essere, dal punto di vista religioso, una storia particolare. Mai come nell'Ottocento-Novecento. Prima perché lo Stato italiano si compone, si sviluppa attraverso la soppressione dello Stato Pontificio. Poi perché rimane aperto la questione romana. Poi perché il ventennio fissa attraverso il concordato nel 1929 un sistema di rapporti di tipo confessionale. Fra l'altro il primo punto del trattato, non del concordato, ma nel trattato, riconosce la religione cattolica e apostolica romana come la religione di Stato. In questo non era una novità perché c'è scritto anche nello Statuto Albertino, intendiamo. Una volta ritrovata la libertà dopo il crollo del regime, si ponte, come noi sappiamo, il problema dell'inserimento o meno dei patti lateranensi nella Costituzione. Credo che di questo ne abbia già parlato il professor Chiorchiù e non mi ci fermo io. Noi invece partiamo dall'assunzione di questi patti, dalla discussione avvenuta dal famoso articolo 7, per vedere quali affetti ha prodotto e soprattutto quale domande ha posto alla coscienza politica italiana e in particolar modo alla coscienza politica dei cattolici. Io partirei intanto da una osservazione. Se noi avessimo la pazienza di andare un po' a scartabellare anche le riviste politiche di quell'epoca, del mondo ecclesiastico, per esempio la civiltà cattolica o del mondo laico, per esempio Belfagor, il ponte di Calamandrei o altro, noi scopriremo che l'articolo 7 che venne votato in quel modo crambulesco che tutti più o meno conosciamo, poneva subito una questione a cui noi non possiamo in serie di ricostruzione storica sfuggire. E cioè pone un problema. Presa nel suo insieme la Costituzione, che ingloba i patti lateranensi, fissa davvero fino in fondo l'immagine di uno Stato laico oppure no, o soltanto in parte. Nel momento in cui viene approvata la Costituzione subito si aprono le discussioni su ciò che era accaduto attraverso l'articolo 7. Intanto possiamo partire da una premessa. L'articolo 7 che ha inglobato i patti lateranensi nella Costituzione suona in una maniera piuttosto precisa. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Fu piuttosto faticoso arrivare a questo punto. Ma noi dobbiamo renderci conto di una cosa. Dobbiamo farci questa domanda, che è la stessa domanda che si faceva anche parlo ai costituenti. E che continua poi a suggestionare il dibattito dopo il 1948. Se noi abbiamo la pazienza di legge tutta la Costituzione, ci accorgiamo che la Costituzione delinea uno Stato laico, ma non lo dichiara espressamente. Non lo dice con la forza del talore. Voglio dire che l'idea di laicità dello Stato non è delineata con una forza incontrovertibile. Però sono presenti alcuni principi che si fondano su una percezione condivisa da parte dei pari costituenti dell'idea di Stato laico. Faccio soltanto quattro esempi per renderci conto. Intanto l'articolo secondo riconosce e garantisce i diritti individuali anche in materia di scelta religiosa. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri interrogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Nell'articolo 7, nel comma primo, proprio quello che dicevo prima, si legge lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno sovrani indipendenti nel loro ordine. Nell'articolo 8 si enuncia il principio della libertà collettiva di religione. Tutte le confessioni di religione sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'articolo 19, merita di essere riconsiderate anche questo, chiarisce ancora il diritto di libertà individuale in materia religiosa. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Questo è il contesto generale in cui si colloca l'articolo 7 che conferma i patti da Terranensi. È curioso che il problema della revisione di questi patti sia presente anche nella mente e nelle parole di alcuni costituenti, si potrebbe citare Tupini, che invece cominciano già a parlare dell'opportunità di una revisione ancora durante la discussione che porterà poi alla formulazione dell'articolo 7. Il ritardo di questo processo di revisione è storicamente significativo e va compreso soprattutto alla luce della storia politica e religiosa nel cattolicesimo del secondo dopoguerra e in particolare alla luce della egemonia realizzata da parte del partito cattolico. Tra l'altro non dobbiamo anche dimenticare una cosa, che questo ritardo nell'avvio di una revisione già pensata da Costituente non ci stupisce di meno se teniamo presente che la stessa Corte Costituzionale entra in funzione di ritardo, addirittura nel 1956, quindi c'è un'attivazione piuttosto ritardata degli istituti che dovrebbero garantire la pratica costituzionale e quindi che sono direttamente chiamati in causa nel momento di una possibile revisione o di questioni che toccano appunto i rapporti tra chi si è stato alla luce delle norme costituzionali. Ti devo mettere presente anche un'altra questione. Quando parliamo di revisione della storia italiana, dobbiamo tenere presente una cosa. La discussione sulla opportunità o meno di rivedere i patti o no diventa molto presto, già nel 1950, una discussione pubblica. Se noi avessimo la pazienza di vedere come sono stati stipulati i concordati dell'Ottocento e anche nel primo Novecento, ci accorgeremo che questa discussione pubblica non c'è, non è evidente. Le due parti, Chiesa e Stato, si confrontano attraverso le loro rappresentanze. Nel 26 e il 25 già comincia la revisione dell'accordo del Trattato del 29, tutto in granzia e vereto, fra l'altro. Quindi l'idea di un coinvolgimento pubblico della discussione è estranea agli stati liberali dell'Ottocento. Lì l'accordo si fa tra commissioni. Questa volta nella storia italiana avviene qualcosa di nuovo. L'idea di una revisione si fa strada molto lentamente, un po' in tutte le forze politiche, in pubblico. Attraverso discussioni, conflitti, contrasti nei quali dobbiamo tenere presente l'agire e l'azione stessa dei cattolici. E' significativo che i laici stessi, soprattutto di tradizione liberale, finiscono per definire il nuovo Stato come uno Stato confessionale. E lo fanno con fortissima polemica. Basterebbe fare il caso degli ultimi esponenti del Partito d'Azione o dei liberali radicali. Cioè accusano lo Stato italiano di aver introdotto di fatto un sistema nel quale l'egemonia religiosa è forte così come lo era nel ventennio. Dal versante opposto è curioso che molti giuristi cattolici aspicano un confessionalismo maggiore dello Stato proprio a partire dall'articolo 7. Cosa c'è dietro? Che cosa sta accadendo? Beh, dobbiamo qui fare un piccolo sforzo e renderci conto di qual è il vissuto religioso soprattutto della società italiana uscita dal dopoguerra. Un vissuto religioso che è fortemente caratterizzato e condizionato dalla politica religiosa di Pio XII che accetta sì la democrazia ma nella prospettiva di una riaffermazione del confessionalismo dello Stato. E molta parte della sensibilità diffusa nella cura romana va in questa direzione. Andrea Riccardi per esempio ha studiato in due libri questa vicenda uno si intitola Roma città sacra, l'altro si intitola il partito romano mostrando come nel mondo romano legato alla curia è fortissima la tendenza, la pressione nel confronto della democrazia cristiana per accelerare i processi e rafforzare i processi di confessionalizzazione dello Stato a partire dal principio che questi processi di confessionalizzazione erano favoriti proprio dal concordato si trattava di attuarlo che significava riconoscere la sacralità della città di Roma quando a Roma negli anni 50 cominciano nei teatri romani ad essere presentati spettacoli o film di un certo tipo subito interviene la censura non in forma moralistica ma richiamando il principio certo è che dire Roma città sacra significa dire tutto e nulla dipende da quale punto di vista si vuole partire per utilizzare un concetto che è un concetto giuridico non è qualcosa che fa parte della sensibilità diciamo così più o meno diffusa è anche significativa un'altra cosa non dobbiamo dimenticare che nel mondo romano e nell'episcopato del periodo XII il passaggio dal fascismo alla democrazia doveva andare nella direzione di uno Stato sì democratico ma con una forte presenza autoritaria questo è chiarissimo per esempio nelle memorie di Jedda che quando parla della storia che portò al famoso 48 ricorda di aver avuto rapporti diretti negli anni 43 e 45 quando passarono le truppe americane in Italia perché tutte le strutture organizzative dello Stato fascista passassero in mano cattolica per garantire una continuità quindi questa idea di uno Stato sì democratico ma fortemente confessionale è un'idea comune a gran parte del mondo cattolico che va in una direzione che sembra legittimata proprio dal trattato e dal concordato lateranense questo non deve stupire basterebbe ricordare che in gran parte del mondo cattolico e soprattutto nel centro-sud fu favorevole alla monarchia piuttosto che alla Repubblica perché la monarchia garantiva questa prospettiva di uno Stato democratico ma fortemente autoritario al proprio interno e quindi facilmente confessionalizzabile questo spiega come un attento forse maggiore studioso di diritto ecclesiastico italiano che è Arturo Carlo Iemolo che partecipò direttamente anche come studioso della Costituente più volte nei suoi corsi di diritto pubblico di diritto ecclesiastico scrive e parla proprio in termini di invadenza della gerarchia ecclesiastica e di tendenza confessionalizzante che si sviluppa proprio in questi primi anni dobbiamo chiedere presente un altro elemento di fuori e cioè che l'Italia democratica vive in una condizione di politica interna per certi aspetti paradossali condizionata da Yalta prima cosa è caratterizzata dalla presenza egemonica del partito cattolico la funzione della democrazia cristiana soprattutto negli anni 50 fu quello di assicurare alla Chiesa il controllo capillare di vasti settori della società italiana e quello di mediare sul terreno politico tra Santa Sera e Parlamento questa è la prima democrazia cristiana di De Gasperi di cui ci parlerà Giaffi quando verrà a marzo un elemento di novità però lo possiamo già trovare nel cattolicesimo degli anni 50 c'è forse una storia qui più che da ricostruire da meditare perché è già stata ricostruita ma non è tale che faccia parte ancora del patrimonio e culturale dei cattolici di oggi il cattolicesimo italiano degli anni 50 fu meno morto e meno spento di quello che sembra perché? perché in ambienti significativi anche se elitari si comincia a sviluppare una prospettiva culturale teologica nuova dove ci si mette si mette anche a tema il problema della permanenza del regime concordatario stesso della sua opportunità e della sua validità sono gli anni in cui comincia a muoversi Dossetti i Dossetti sempre più vicini all'ercaro tra l'altro sono gli anni in cui a Firenze altro centro culturale compare sulla scena Balducci si tratta di esperienze minoritarie che però mostrano come il cattolicesimo italiano è meno irrigidito di quanto il cattolicesimo stesso vorrebbe ufficialmente mostrare quando si scriverà una storia una pre-storia del concilio Vaticano II bisognerà in Italia bisognerà andare a vedere queste voci perché poi le voci si spargono creano un immaginario collettivo una sensibilità pubblica e questo finisce poi per portare effetti al suo tempo il dibattito sulla opportunità della revisione o del suo sviluppo per strano che possa sembrare come dicevo prima comincia ad articolarsi già all'indomani dell'approvazione della nuova costituzione si potrebbe per esempio andare a leggere gli articoli che il padre Lerner scrive sulla civiltà cattolica dal 1947 al 1951 guardate bene che quando si parla di civiltà cattolica si parla di segretaria di Stato le bozze della civiltà cattolica per tradizione sono riviste dal segretario di Stato Paolo VI le rivedeva lui ogni 15 giorni si incontrava col padre Sorge e quando magari in un numero compaiono come dire degli articoli piuttosto stravaganti strambi o fuori del comune è perché lì è stata fatta la censura dell'articolo che non è pronto un altro questo racconta bene sorge quindi sentire la civiltà cattolica sentire non l'ufficiosità qualcosa che è stata l'ufficialità e l'ufficiosità ecco quindi siamo ben presenti a questo fatto e il padre Lerner è uno specialista di sociologia cattolica affidatissimo fra l'altro e lui prende posizione su alcune questioni prima di tutto difende il principio per il quale i patti lateravenzi sono una totalità un tutto che non può essere disarticolato cioè difende la coerenza di questi patti e la necessità in prospettiva di un'eventuale riforma di non toccare l'impianto complessivo dopo il 1848 entra soprattutto in polemica con chi sostiene che la Costituzione ha introdotto delle novità rilevanti sui rapporti tra Chiesa e Stato creando delle antinomie che andrebbero fortemente e rapidamente risolte qual è il fatto che ci si accorgeva che da una parte si rivendicava la confessionalità dello Stato dall'altra parte la libertà riconosciuta a tutte le confessioni religiose l'attrito era possibile quando sul piano della legislazione concreta in questo periodo del 20esimo alle 50 nella Chiesa Cattolica si trova di fronte al momento di maggiore splendore della figura del cattolicismo romano più rappresentativa che è il celeberrimo cardinale Ottaviani che insegnava diritto pubblico eclesiastico laterale il suo testo non aveva letto come sorta di autobiografia addirittura della Chiesa romana di quell'epoca bene al congresso tenuto a San Giovanni laterano il 2 marzo del 1953 con questo dei giuristi cattolici tiene una relazione in cui dice che in una nazione cattolica è compito dei governanti informare la legislazione in senso cattolico più chiaro di così non si può dire che cosa voleva dire questo e se si parte dal principio che i patti lateranensi garantiscono la confessionalità dello Stato sia il trattato che il concordato dunque è dovere dei legislatori cattolici come dire il dovere del governo perché la maggioranza assoluta in questo momento è la democrazia cristiana informare la legislazione in senso cattolico con tre conseguenze dice sono parole sue la professione sociale e non soltanto privata della religione del popolo l'ispirazione cristiana della legislazione la difesa del patrimonio religioso del popolo contro ogni assalto di chi vorrebbe strappare adesso il tesoro è curioso perché lo stesso Ottaviani due anni dopo quando venne fatto il concordato con la Spagna di Franco disse che quello era l'esempio perfetto dei rapporti tra Chiesa e Stato è curioso che quando Paolo VI volle rifare il concordato con la Spagna dopo il 77 Franco che era in vita non volle disse ma cosa volete più confessionale di così la Spagna non può essere era passato parecchio tempo la posizione di Ottaviani per quanto estrema può sembrare è perfettamente in coerenza con la tradizione romana che vede soltanto nello Stato confessionale l'unico modo per garantire la libertà della Chiesa la sua azione e soprattutto la solidità dello Stato nulla di nuovo rispetto a una plurisecolare tradizione fu qui a XII che lo stesso anno esattamente il 6 di dicembre in un discorso anche lui giuristi cattolici cercò di smussare questa forza ideologica di Ottaviani facendo un discorso estremamente curioso perché in questo discorso afferma il valore della tolleranza religiosa in vista di un bene maggiore significava sconfessare l'estremismo di Ottaviani ti erano ben presente che i patri sono sempre meno liberi di quello che noi pensiamo perché stanno rendendo la cura romana ed è altrettanto interessante in questi altri anni in questi anni Dossetti che si è ritirato dall'attività politica a Bologna sta fondando la sua esperienza monastica legatissimo al cardinale Lercaro viene invitato da Lercaro a scrivere una memoria che poi venne presentata alla conferenza episcopale di quegli anni va tenuto presente che la conferenza episcopale degli anni 50 non è come noi la conosciamo intanto Pio XII non la fece mai radunare a Roma questi si radunavano a Pompei si radunavano ad altri posti e non aveva una grande simpatia verso una struttura del genere i vescovi però si trovavano si riunivano per affrontare varie questioni e nel 1953 si riuniscono di parte a Pompei e in quella circostanza Dossetti scrive una memoria che poi il cardinale Lercaro lesse all'episcopato e questa memoria è estremamente interessante perché non è soltanto una presa di posizione di Dossetti è la presa di posizione del cardinale di Bologna che è un po' un'altra cosa il Lercaro prima del concilio che è passato per molti aspetti come un conservatore la vulgata vorrebbe che Lercaro si sarebbe quasi convertito al concilio in realtà guardate che cosa dice dice è Dossetti ma è Lercaro che costituzionalizza diciamo su questo discorso che l'articolo 7 della costituzione non può fermare la storia e cioè che la Chiesa italiana non può più affidarsi al concordato occorrono dice altri strumenti perché la Chiesa abbia la sua vitalità in Italia e dice ecco le sue parole una nuova coscienza e un nuovo costume della nazione attraverso nuove più giuste e stabili strutture sociali questa è stata la grande utopia di Dossetti negli anni che vanno dalla liberazione fino al concilio cioè una riforma religiosa e un rinnovamento sociale queste parole espresse con un linguaggio un po' diciamo così strano al nostro linguaggio che è più conciliare al momento dovrebbe essere un pochino più legato al concilio sono parole che vanno rilette con attenzione che significa dire una nuova coscienza e un nuovo costume della nazione significa che Dossetti e l'ercaro intuisce più o meno nel decennio successivo all'approvazione dei fatti della Costituzione che il concordato non può più essere uno strumento che garantisca la vitalità della Chiesa che occorrono non altri strumenti ma altri percorsi Dossetti insegnava diritto ecclesiastico era anche un canonista fra l'altro e sapeva benissimo perché lo scrive molto molto in questi anni che i concordati nascono perché lo Stato garantisce certe libertà in certe forme in certe istituzioni alla Chiesa è uno strumento che tutto sommato soprattutto il papato del Novecento per strano che possa sembrare è attento ad adoperare in forma difensiva come dire a garantire che la vitalità del Cattolicesimo la sua espandersi il suo esistere trovino appoggi nello Stato che ne garantisca la vita effettiva infatti il concordato con la Germania fu fatto proprio per motivi difensivi questo lo diceva lo stesso Cardinale Pacelli che significava negli anni 50 dicono cose del genere riconoscere che questo strumento per quanto utile forse non era più uno strumento che era aperto al futuro Dossetti si sognava la riforma sociale ma anche una riforma religiosa dell'Italia come dire il Cattolicesimo del futuro o rinasce attraverso una dinamica ecclesiale più profonda oppure non potrà con più contare sulla forza dello Stato sono anche questi anni in cui questi discorsi che si fanno in ambito cattolico mostrano che proprio nel Cattolicesimo degli anni 50 si cominciano ad avere delle posizioni diverse dissimili dovute anche ad un altro fatto esistono prese di posizioni che sono caratteristiche del mondo politico dell'epoca dei vari partiti che in qualche modo assumono posizioni spesso anche molto critiche nei confronti del sistema concordatario quindi è interessante osservare che alle varie posizioni critiche poi ne citerò alcune non fa riscontro un mondo cattolico compatto ma un mondo cattolico pluriforme devo insistere su questo perché una certa storiografia ideologicamente pilotata anche gerarchicamente pilotata tende sempre ad attenuare le differenze come se il mondo cattolico vivesse una specie di monolite non lo è mai stato neanche nel Medioevo figuriamoci oggi nel 1949 il partito socialista che in quegli anni aveva una posizione frontista fa un convegno sulla laicità dello stato e della scuola il Nenni propone è segretario del partito il sistema separatista insomma l'anno dopo l'introduzione della costituzione già si discute su uno dei grandi perni della costituzione su uno dei grandi nodi propone l'abolizione dell'insegnamento religioso nella scuola e propone l'abolizione o la revisione del concordato la cosa interessante è che il partito comunista di questi anni non va infatti in questa direzione Togliatti lo sappiamo bene da quando tornò nel 1944 in Italia nel famoso discorso di Salerno ha nei confronti del cattolicesimo una estrema cautela perché perché Togliatti sa benissimo che il cattolicesimo in Italia ha un suo radicamento popolare che è difficilissimo toccare con cui occorre fare i conti per cui Togliatti non pensa affatto né in termini di abolizione né in termini di revisione si può dire che questa è una strategia certo quello che vogliamo ma di fatto è una strategia che mostra un realismo particolare che è questo una possibile revisione o l'abolizione debbano nascere da una sensibilità diffusa non possono essere calate dall'alto e per chi è attento come Togliatti ai profondi dinamismi della società italiana proporre una revisione dall'alto o addirittura un'abolizione significa innestare una conflittualità per così dire radicale non tanto con la Chiesa ma con il popolo cristiano non dobbiamo neanche meravigliarci che un certo astrattismo da questo punto di vista non si trova nel mondo laico di ispirazione liberale o radical liberale per esempio in questi anni Belfagor che è la famosa rivista curata dall'italianista Luigi Russo che è di tradizione neo-idealista ma radicalizzata in senso marxista propone proprio la separazione il sistema separatista nel 1950 appare un numero unico sul ponte di Pietro Calamandrei dedicato a Chiesa e Democrazia contro la dittatura clericale che si accusa come qualcosa che si sta affermando nell'Italia degli anni 50 forse in questo periodo degli anni 50 il convegno più interessante del mondo radicale e liberale è il convegno organizzato dalla rivista Il mondo di Pannonzio che rappresentava l'ala liberale del partito liberale italiano che poi diventa l'ala radicale Pannonzio fonda il partito radicale da un certo punto di vista segue Croce e segue soprattutto la nuova borghesia industriale italiana molto attenta al partito comunista ma fortemente anticlericale nel 1957 il mondo organizza un convegno su Stato e Chiesa l'episodio è significativo perché rappresenta il momento in cui l'anticlericalismo paradossalmente finisce per impedire ogni dialogo con quella parte del cattolicesimo democratico che era sensibile alla riforma del concordato e l'andamento di questo convegno è sintomatico si aprì con un messaggio di Salvemini ormai vecchissimo sarebbe morto qualche mese dopo in cui Salvemini propone l'abolizione del concordato in questi termini sono parole sue il pericolo è la trasformazione graduale per via di quegli imbrogli di cui la DC è maestra da regime democratico a regime totalitario il nostro ufficio deve essere quello di seguire giorno per giorno l'opera della DC dare l'allarme di ogni suo nuovo passo verso il totalitarismo guardate con quelle facce di totalitaria si parla di totalitarismo dare dell'anticlericalismo non astratto ma concreto con sorveglianza e aggressività in ogni ora riplicò a Salvemini il maggior storico di tradizione crociana di quegli anni Luigi Salvatorelli che invece osservava che nell'Italia degli anni 50 non esistono rischi teocratici ma che bisognava piuttosto favorire un dialogo con quei settori dell'azione cattolica lui dice sensibili alla recità dello Stato il convegno non va nella direzione sognata da Salvatorelli intervenne Ernesto Rossi appellandosi alla società civile per la borgazione del concordato questo convegno è significativo perché proprio mentre nel mondo cattolico cominciano a disarticolarsi in posizioni ferme intorno al principio confessionale dello Stato questo convegno impedisce queste forze di muoversi con libertà è un meccanismo molto semplice anche dal punto di vista psicologico così che si capisce questo cosicché si perde una occasione che stava nascendo negli anni 50 quella occasione che viene rappresentata proprio dalla fondazione di una rivista che ancora è tra le maggiori del cattolicesimo e della cultura laica italiana cioè il Mulino di Bologna che nasce con un programma condiviso nel senso che la lotta per la laicità dello Stato doveva coinvolgere sia cattolici che liberali ma nel momento in cui il liberalismo nelle sue voci più forti tende a rigidirsi in anticlericalismo un progetto del genere rimane quanto mai effimero e difficile il PC si continua invece nella sua linea togliattiana contraria all'abolizione del concordato che viene considerato come una proposta massimalista non dimentichiamo che molti anni del partito socialista si sono sempre preoccupati di rincorrere il partito comunista a sinistra già in quegli anni sono gli anni del frontismo non ancora del centro-sinistra e la vera questione per togliatti è che la società italiana aveva subito una involuzione non a causa di processi di confessionalizzazione dello Stato ma a causa dei governi centristi e un profondo rinnovamento sociale non avrebbe avuto secondo lui nulla da temere dal concordato scrive infatti sull'unità uno Stato che abbia assunto questo carattere nuovo non ha niente da temere da un concordato né da quelle libertà che il concordato italiano garantisce alla Chiesa cattolica il dibattito non è un dibattito di grandissima levatura come si vede perché qui si vede chiaramente uno dei retaggi pesanti e negativi dell'anticlericalismo tardottocentesco che si rinnova sempre con soliti modelli piuttosto moduli piuttosto astratti che poi fa da pandan al clericalismo ancora negli anni 50 clericalismo e anticlericalismo sono tutto sommato le due facce della stessa medaglia cosicché il dibattito la discussione su un'eventuale revisione non procede non va avanti non dobbiamo neanche dimenticare poi certi episodi che tra gli anni 50 e 60 irrigidirono Roma e irrigidirono dall'altra parte la cultura liberale anticlericale un episodio più famoso quello famoso del caso Fiordelli il vescovo di Prato che accusò in pubblico durante una melia due persone della sua città di essere concubini in quanto erano conviventi non sposati venne denunciato in prima istanza venne condannato in seconda istanza venne assolto però l'effetto fu dirompente si sprecarono interrogazioni parlamentari vi furono manifestazioni a cui per certi aspetti non si sottrasse neanche il partito comunista a cui tutto andava a grado eccetto che mettersi in mente di fare un po' di cacciara contro questo povero vescovo di Prato qualche nuovo orizzonte che va nella revisione del corrondato si apre piuttosto negli anni della cosiddetta apertura a sinistra sono gli anni che vedono l'azione cattolica ancora su posizioni fortemente intransigenti ma si comincia ad avvertire il problema del concordato in un modo nuovo e cioè tutto sommato a partire dagli anni sessanta la questione del concordato assume non significato nuovo nell'ambito dei processi di secolarizzazione in corso voglio dire che sono gli anni in cui l'Italia cominciamo a difestarsi nella coscienza religiosa più più in vista più attenta il vero e proprio tramonto del sistema di cristianità sono a vero gli anni del mito della unità politica dei cattolici come risposta alla sfida della secolarizzazione ma sono gli anni in cui la questione del concordato comincia a porsi non tanto a partire dai grandi principi dove si scontrava la tradizione antichiliricale con il confessionalismo magari ma si comincia a porre a partire dalle grandi trasformazioni etiche che per qualche aspetto richiedono il superamento del sistema concordatario in altre parole a muovere l'opinione pubblica e poi il Parlamento verso la revisione del concordato o la sua trasformazione nei primi anni 60 e non tanto la discussione teorica che pure continua ma è quell'insieme di trasformazioni etiche del tessuto sociale italiano che cominciano a porre quei problemi che poi hanno per così dire catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica soprattutto negli anni 70 la prima questione è la questione del divorzio è vero che la questione del divorzio ha una data particolare 1974 perché è la data del referendum ma la questione viene posta già negli anni 60 la questione del divorzio poneva una questione di rapporto con il concordato fra l'altro era molto semplice per Roma e venne fatta anche questa osservazione dire che non poteva essere introdotta una discussione del genere perché il concordato stabilisce in articolo 35 mi pare che il matrimonio è indissolubile fedelmente alla tradizione cattolica quindi è una questione che nasce ripeto dal mutamento etico a cominciare a porre il problema della sussistenza o meno di questo strumento concordatale sono gli anni anche le discussioni relative all'insegnamento della religione nelle scuole statali fra l'altro ed anche comincia negli anni sessanta la questione all'osa della proprietà ecclesiastica tutte questioni che in un certo modo diventeranno poi al centro dell'attenzione alla fine degli anni settanta quando si arriverà appunto al momento conclusivo di questo processo di revisione ma non dobbiamo dimenticare una cosa il che il cattolicesimo italiano è toccato bene o male anche dal concilio Vaticano II e le discussioni del concilio Vaticano II incidono e come anche nelle discussioni sul concordato perché? perché introducono nel cattolicesimo italiano qualcosa di profondamente nuovo a cui il cattolicesimo italiano non era molto abituato e io ho avuto nella mia vita la possibilità di parlare con diversi vescovi che sono stati al concilio e tutti mi dicevano la stessa cosa noi dicevamo al concilio non cattivavano nulla quando parlavano i paroli conciliari soprattutto la gente come Sionens, Montini eccetera ma loro me ne parlavano dal punto di vista del declessio ecco quando si trattò di parlare di questo in realtà però il cattolicesimo italiano rimase anche molto estraneo ad un'altra elaborazione conciliare che è essenziale a quello che poi prende il tono della gara di metto spesso per cui certi nuove declinazioni conciliari del rapporto tra chiesa e società civile rappresentavano per la maggior parte dei cattolici italiani qualche cosa di inedito non tali apparivano invece queste declinazioni a quell'ala del cattolicesimo che già negli anni cinquanta in qualche modo era giunta a percepire alcuni aspetti di novità nella teologia e nella cultura europea pensiamo per esempio alla distinzione che fa il Vaticano II tra la sfera politica e la sfera religiosa che non comportava lui dice chiaramente la gara di metto spesso una sorta di disinteresse da parte della chiesa ma nella gara di metto spesso si parla chiaramente di collaborazione tra la chiesa e le istituzioni terrene in vista del bene comune un conto è collaborare un conto è confessionalizzare i verbi hanno la loro importanza più volte si dice che la chiesa annuncia il Vangelo e chiede la libertà necessaria ma i suoi mezzi non differiscono molto dai mezzi propri delle società terrene per questo si legge molto bene nella gara di metto spesso la chiesa cessa di riporre le proprie speranze nei privilegi offerti dalle autorità civile ed è disposta a rinunciare all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni certo sono parole che guardano la chiesa universale poi dopo tocca alle chiese particolari fare i conti con questo dettato qui l'allusione alla passi concordataria è evidente che cosa sta avvenendo al concilio la passi concordataria viene storicizzata viene considerata come uno strumento che forse per certi aspetti non è più attuale o non è più attuale dappertutto o comunque non sia un dogma fra l'altro non va dimenticato che un altro elemento che tocca a fondo la coscienza religiosa italiana di quell'epoca degli anni 60 è determinato dagli orientamenti della dignità disumana perché qui si afferma il principio per il quale la libertà della chiesa non contrasta con la libertà religiosa di tutti e soprattutto la libertà della chiesa si sviluppa non attraverso strumenti impositivi dice la dignità disumana la chiesa attribuisce a sé la verità ma la verità non si impone che in virtù della stessa verità si potrebbe dire che in qualche modo erano le parole di Dossetti quando dice che occorreva una riforma religiosa della società italiana che partisse da una percezione da un approfondimento da una rivitalizzazione delle verità cristiane non bisogna anche dimenticare che perfino la pace in Minterris contribuisce a creare un clima nuovo nel cattolicesimo italiano e a porre indirettamente il problema anche del concordato perché la pace in Minterris riconosce che la libertà religiosa di tutti deve essere tutelata dallo Stato ma la libertà religiosa e può accadere dice papà Giovanni che per ragioni storiche nell'ordinamento giuridico dello Stato si attribuisca una particolare rilevanza ad una confessione religiosa ma anche in questo caso sono parole sue è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa ora nel processo di ricezione del Vaticano II in Italia anche la questione del concordato torna fortemente in primo piano e negli anni 60 al fine degli anni 60 al metà degli anni 70 fu una delle discussioni tipiche delle associazioni cattoliche dell'epoca tutte non c'era associazione cattolica dove non venne posto questo problema con risposte molto differenti al loro interno si andava dall'idea di separazione del cristiano per socialismo all'idea di riforma e di rinnovamento di questo patto o di revisione alla luce del Vaticano II comunque della prospettiva di un superamento del confessionalismo questo perché la discussione del concordato diventa in Italia anche una questione ecclesiale questo è un altro elemento su cui bisognerebbe tornare a discutere e a fare un po' di ricostruzione storica perché di per sé negli anni precedenti al concilio i cattolici non discutono dei concordati se non sul piano del diritto pubblico sul piano del diritto ecclesiastico ma non sul piano ecclesiale quelli furono anche gli anni in cui in certi settori dei cattolici si pose un problema che andrebbe riposto oggi cioè sul significato ecclesiale di uno stato legato a Roma che non è mica una idea tanto peregrina possilo non è un'idea tanto strana quegli anni si discusse anche di questo nel mondo nel mondo cattolico c'era lo spinto che proveniva da una ecclesiologia nuova ma non è un caso che in Europa e anche in Italia si torna perfino a discutere di questo poi i processi storici vanno per altre questioni cioè si si accorge che mantenere in piedi questo strumento in qualunque modo nella forma poi stabilita dalla Costituzione implica anche qualcosa di fondo nella ecclesiologia del popolo di Dio e questo problema tutto sommato è rimasto aperto per molti aspetti ma è significativo al di là di tutto e anche al di là di certe soluzioni o tentativi di soluzioni che sono rimasti steli in quegli anni che è un problema di questo tipo che appare sempre proprio nell'orizzonte politico politico religioso politico ecclesiastico comincia a diventare l'igname 70 una questione di ecclesialità cioè una questione che tocca l'agire della Chiesa il suo essere comunità sono anche gli anni in cui alcune riviste cattoliche si muovono nella direzione della separazione o dell'abolizione del concordato basterebbe fare due casi quest'Italia di Vladimir Rodorigo che propone la separazione e testimonianze di Balducci che propone l'abolizione ma con il tempo l'abolizione graduale del concordato intanto la metà degli anni 60 comincia la discussione in Parlamento e i Parlamenti arrivano sempre dopo questo è naturale e fra l'altro tutta la storia della revisione del concordato è condizionata strettamente dalle crisi di governo dai problemi di maggioranza poi come vediamo fra qualche istante anche dall'accesa discussione sul divorzio si possono segnare alcune date intanto nel 1965 vi fu una discussione parlamentare quando a Roma e un po' non la per tutto nei grandi capitali europei venne messa in scena quella rappresentazione drammatica del vicario di Occut Occut dove venne messa in scena Pio XII è accusato di aver tacciuto nei confronti della Shoah eccetera una questione che poi dal punto di vista teatrale è una noia mortale ancora leggere quel libretto teatrale si trova ancora in vendita ma la discussione fu atroce perché si toccava qui qualcosa di assolutamente sacro e intoccabile ebbene è curioso che il 12 aprile di quell'anno Nenni che incontrò il vicepresidente del consiglio incontrò Paolo VI e scorse in Paolo VI la disponibilità vaticana per la revisione del concordato la procedura è molto semplice per rivederlo bisogna che tutte le due parti fossero d'accordo non è che c'era altra possibilità e Paolo VI si mostrò d'accordo per una revisione qui si comincia a parlare di revisione revisione significa non toccare l'assetto generale rivedere dentro un tutto che non si tocca nel suo assieme due anni dopo la Camera si esprime secondo una mozione di maggioranza che propone la revisione bilaterale di alcune norme concordatarie in base alla evoluzione dei tempi e allo sviluppo della democrazia sono i primi presi di posizione i primi voti che si fanno piuttosto generici il minimo generico invece è la famosa commissione guidata da Guido Ronella che si insiede nel 1968 che è inchiaricata da parte dello Stato di impostare i problemi da discutere con la controparte vaticana non a caso venne scelto Guido Ronella perché era in intimi rapporti con il Vaticano molto più fluido di Andriotti in quegli anni quindi persona ingraditissima il Vaticano ricorderete gli atti gli atti di un'altra la commissione fu molto rapida andò dalla primavera fino alla metà del luglio del 1968 ma gli esiti di questa commissione non furono comunicati al Parlamento e rimasero inediti fino al 1976 quando furono pubblicati da Spadolini in un'opera sua scriveva scrisse questo testo sui rapporti da Chiesa e Stato e viene pubblicato da Spadolini non se ne seppe nulla c'è un nuovo passaggio parlamentare nel 1971 e questo passaggio è estremamente interessante qui Andriotti propose una discussione del concordato in Parlamento prima della firma una novità di grande rilievo che passò inosservata perché era una novità estremamente democratica ma nella storia dei concordati i parlamenti ratificano i concordati dopo che è avvenuta la firma non discutono prima qui invece si pongono le basi perché il concordato sia una revisione non del governo ma del Parlamento e Andriotti si impegnò cosa che poi fu fatta a favorire l'ampia discussione e consultazione prima di tutto nel Parlamento italiano e qui si afferma definitivamente l'idea di una revisione del concordato le cose andarono piuttosto lentamente perché tra il 71 e il 76 tutto si ferma per la discussione nota sul divorzio che passa in primo piano nel primo ottobre del 65 Fortuna presenta la proposta di legge che poi diventerà la proposta Fortuna Baslini un liberale e un socialista il Vaticano interviene con una nota ufficiale in cui si chiarisce si dice si afferma con molta chiarezza che questa discussione e l'eventuale naturalmente approvazione della legge del divorzio infrange l'articolo 34 del concordato vi fu una opposizione fatta dalla Corte Costituzionale che in una sentenza del gennaio del 1967 e sancisce la costituzionalità della proposta di legge all'elezione del 1968 le due Camere hanno finalmente una maggioranza divorzista non dimentichiamo che la maggioranza divorzista era fatta molto semplice tutti a favore del divorzio eccetera la democrazia cristiana e il movimento sociale nonostante ci fosse allora un governo di centro-sinistra e poi di centro la maggioranza convolgeva sia mondo laico sia mondo comunista e l'estrema sinistra quindi la cosa riuscì a passare il 74 è l'anno del referendum ma è anche l'anno del dissenso cattolico che favorisce l'approvazione del concordato della legge del referendum contribuisce alla vittoria dei no e in questo momento anche all'interno del dissenso cattolico si rafforzano le tendenze abrogazioniste nei confronti del concordato cioè questa era un'occasione per forzare le cose per farle accelerare nella prospettiva dell'abolizione stessa del concordato nel 1975 vi furono contatti non ufficiali tra il governo e la santa sede li conosciamo perché il diplomatico italiano che rappresentava il governo italiano presso la santa sede era Pompei che ha pubblicato le sue memorie di questi anni e Pompei assicura che l'interesse di Paolo VI era quello di procedere oltre anche rapidamente la revisione anche nella prospettiva di un nuovo concordato non necessariamente la revisione anche andando molto oltre c'erano dubbi del Papa ma tutto sommato questi dubbi stavano all'interno di una volontà precisa di procedere in questa direzione per questo il 25 ottobre del 75 il governo invita ufficialmente la santa sede a riaprire i negoziati e i negoziati cominciano a conoscere una prima accelerazione a novembre del 76 Androtti presenta la prima bozza di un nuovo concordato che fin dall'inizio ha la forma che poi è destinata ad assumere alla fine cioè un accordo quadro con intese successive quello che poi diventerà l'andamento del concordato italiano una serie di grossi principi poi con intese da attuare con commissioni bilaterali e soprattutto Androtti garantisce l'impegno a favorire la discussione al Parlamento cioè come si dice in termini tecnici a parlamentarizzare la discussione fra l'altro dobbiamo anche dimenticare che per certi aspetti Androtti era costretto a farlo perché questi sono gli anni famosi dei governi non di unità nazionale ma del governo della non sfiducia vecchio regime la prima repubblica è riuscito a inventare questo un monocolore democristiano guida tra Androtti che non aveva la maggioranza ma non aveva neanche voto contrario di tutti i partiti dell'arco costituzionale si chiamava il governo della non sfiducia ed è chiaro che avendo la non sfiducia del partito comunista è chiaro che doveva essere parlamentarizzata la discussione fra l'altro non dobbiamo dimenticare che nella discussione di questi anni potremmo andare a leggere per esempio gli articoli di critica marxista gli interventi degli specialisti comunisti soprattutto Carlo Gardia furono molto intensi c'è un grande coinvolgimento un po' di tutte le forze politiche soprattutto del partito comunista che non dimentichiamo tra 75 e 76 ha occupato ormai in Italia uno spazio altrimenti significativo sono gli anni in cui nel 75 il partito comunista arriva al 34% dei voti l'anno successivo nel 76 addirittura sembrava che prendesse più voti della DC non ci riuscì per poco ma sono gli anni in cui in Italia si sviluppa una politica bilaterale con due posizioni fortissime con questo bipolarismo come si diceva allora che in quel sistema dovette per forza portare ad un accordo in qualche modo come si diceva allora di unità nazionale quindi si può dire che in questi anni la discussione sul concordato nasce all'interno di rapporti a distanza che si cominciano a creare tra le due forze popolari maggiori sono anche gli anni in cui Berlinguer parla di compromesso storico e sono gli anni in cui Moro comincia a parlare della famosa quarta fase che poi non ci fu ma che stava a significare un ravvicinamento tra tutte le forze popolari italiane dipende naturalmente tra DC e PC non in termini di governo ma in termini di riforma dello Stato e di solidarietà nazionale poi sappiamo come finire con l'assassino di Moro il dibattito procede da 1976 con una certa rapidità non vi sto a raccontare tutte le faccende delle bozze successive da 1976 all'83 fino alla bozza Fanfani ma vorrei piuttosto fermarmi soprattutto a osservare i principi ispiratori di questo nuovo concordato che contengono alcuni elementi di radicale novità anche nel presentare è come dire il cambiamento in corso con motivazioni legate ai mutamenti verificatesi in Italia con il concilio Vaticano II perché è strano che possa sembrare le prime parole dell'accordo dicono qualcosa che non si trova in nessun altro concordato dell'epoca dice la Santa Sede della Repubblica Italiana ha tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificato seditale negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio Vaticano II quindi i referenti sono due i mutamenti storici si potrebbe dire lo sviluppo di una società secolare e d'altra parte gli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio Vaticano II è curioso che un accordo bilaterale contenga una espressione di partenza perché è la prima parola che dice di questo genere poi dice ancora avendo presenti da parte della Repubblica Italiana i principi sanciti dalla sua Costituzione da parte della Santa Sede le dichiarazioni del concilio ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica nonché la nuova codificazione del diritto canonico considerato inoltre che in forza del secondo comma eccetera la Repubblica Italiana qui parla dell'articolo 7 che viene mantenuto alla luce di tutto questo i primi articoli sanciscono la fine di ogni pretesa confessionale articolo primo la Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano le parole della Costituzione impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti dalla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene del Paese queste parole che sembrano tanto facili da capire non lo sono mica tanto perché perché per tradizione il concordato fissa la condizione della Chiesa cattolica in uno Stato così nasce il concordato qui invece si stabilisce che Stato e Chiesa Stato e Chiesa cattolica concorrono con i loro rapporti nel pieno rispetto della loro indipendenza e sovranità nel proprio ambito concorrono e collaborano per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese non si dice che vengono salvaguardati i diritti cattolici si vede il dinamismo ecclesiale che collabora al bene di tutti articolo secondo la Repubblica italiana riconosce la Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale educativa e caritativa di evangelizzazione eccetera che è un classico di ogni concordato il fondamento di un concordato è la richiesta della Chiesa di avere piena libertà d'azione per tutto quello che riguarda la propria organizzazione o nella propria attività eccetera poi si dice articolo 4 e garantite ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola allo scritto eccetera e poi la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma se deve scoprire il sommo pontefice ha per la cattolicità ecco un residuo del passato perché un residuo del passato perché questo articolo per essere interpretato deve essere interpretato alla luce di una tradizione precedente perché di per sé che vuol dire il particolare significato che ha Roma per la cattolicità è nella sua tradizione ma questo particolare significato che cosa determina dal punto di vista giuridico amministrativo burocratico questo un concordato non lo dice attendi bene quando un concordato non dice qualcosa state tranquillo che quello è l'inizio di un conflitto e qui si può dire è qualcosa che lo Stato ha dovuto pagare cioè la mancanza di una certa chiarezza lo Stato laico che definisce il significato particolare di Roma però tutto sommato ma anche una parola chiave non si parla più di significato sacro di Roma il che vuol dire qualcosa che vuol dire che Roma è importante per la sua tradizione che non la porta ad essere uno spazio sacro si potrebbe andare avanti così per vedere queste varie novità non mi ci voglio fermare e ciò che è significativo però è questo che alla luce di queste premesse poi lo Stato e la Chiesa stabiliscono delle attività future degli incontri bilaterali per sancire tutta quella serie di questioni che poi divenne oggetto di patti di accordi successivi di protocolli successivi per cui per esempio quello che può interessare molti di noi gli accordi che hanno definito lo statuto dell'insegnamento della regione cattolica dello Stato che avvenne diversi anni dopo quali somme noi possiamo tirare fuori da questa esperienza certo il concordato di 1984 appare soprattutto come la conclusione di un'epoca più che un nuovo inizio perché di fatto lo vedete qui anche da questa brevissima citazione liquida vecchie questioni confessionalismo dello Stato e soprattutto è tolto di mezzo ogni residuo confessionale su questo non c'è più dubbio lo Stato offre alla Chiesa alcuni spazi e alcuni strumenti ma il loro contenuto è destinato a dipendere dalla dinamica stessa della società italiana ora si potrà discutere quanto si vuole del senso e del valore di concessioni come l'otto per mille o la garanzia dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche sta però di fatto che lo Stato laico assicura non assicura più gli interessi della Chiesa non li tutela ma consente laicamente il loro delinarsi dinamico nella società civile e in questo senso l'accordo concordatario non ha più la forma dei concordati tradizionali della prima metà del Novecento e in un certo senso è l'unico dei concordati possibili con uno Stato democratico questo perché altri strumenti anche più agili e flessibili potranno efficacemente garantire la libertà della Chiesa laddove si presenterà la necessità della salvaguardia da parte dello Stato però in una società neocapitalistica avanzata come quella italiana lo Stato non è più interlocutore essenziale e irrinunciabile per i credenti di qualsiasi religione perché lo Stato ce ne stiamo ben accorgendo negli ultimi vent'anni non guida più la società non la orienta anzi rappresenta un interlocutore sempre meno importante e autorevole e in questo contesto non ha più senso che la Chiesa chieda allo Stato spazi privilegiati per la sua missione tutto sommato lasciatemelo dire l'accordo concordatario è destinato a rappresentare una sorta di relitto del passato sicuramente significativo il relitto di una storia politico-religiosa particolare come quella italiana una storia che prosegue in un orizzonte del tutto nuovo e del tutto problematico nel quale l'evangelizzazione ben poco ha da richiedere ad uno Stato che se è realmente laico ben poco o nulla può concedere grazie in genere i profetti fanno sempre una brutta fine questo è un genere anche letterario ma io vorrei riprendere una cosa la prima cosa di questo discorso perché non appare oggi la multiformità del mondo cattolico intanto bisogna anche riconoscere che in mezzo attuale di comunicazione ci permettono di vedere una pluralità di dinamismi e di posizioni ci sono tanti siti internet in cui appaiono cenacoli esperienze movimenti capisco che è un po' difficile che non sapere neanche andare a cercare vivo ancora con la carta piuttosto che con il web capisco che forse è difficile cercarlo però questo dinamismo si può riconoscere penso per esempio agli anni 70-80 quando c'è stata una grande plurificazione di riviste ovviamente bozze per esempio che poi hanno dato frutti anche attraverso riviste minori di riviste di carattere locale questo oggi forse più che nel passato oggi e in futuro ci sarà questa possibilità di ascoltare più voci chiunque oggi vuole parlare si fa il suo sito il suo blog e parla però c'è qualcos'altro che mi fa pensare perché questo queste dinamiche plurali non prendono forma io una sera più visibile non dico istituzionale ma più evidente e più ricercata beh qui è molto semplice credo che mai come negli anni della guida dei ruini ad Acei abbiamo assistito a una compressione delle voci non conformi alla ufficialità questo è un dato di fatto riconosciuto non è mica si dice nulla è chiaro che l'ufficialità ha il suo ruolo ma l'ufficialità non esaurisce mica la Chiesa non è mica l'intelligenza collettiva non è chiamata nemmeno a riassumere la pluralità delle voci un conto è riassumere e indicare gli orizzonti credenti e questo è il compito dei Vescovi ma non è mica il compito dell'ufficialità quello di ridurre ad unum le diversità il problema è che nell'epoca di crisi come evidentissimo nella Chiesa italiana ma non soltanto italiana nelle Chiese europee la comunicazione intraeclesiale si fa sempre più difficile sempre più difficile un po' come nei partiti e di fatti noi oggi assistiamo ad una compressione da questo punto di vista e per cui l'italiano medio sente le voci dell'ufficialità perché altre non le sa trovare pure ci sono noi viviamo negli ultimi vent'anni una sorta di autoritarismo di questo tipo e la preoccupazione di garantire una uniformità di pensiero su alcune questioni di fondo che riguardano la vita della Chiesa italiana ha portato di fatto ad una diminuzione della libertà di comunicazione perfino tra i visco perfino tra i visco non dico nulla di strano se non se ne va male se lo dico qui il nostro arcivesco una volta mi disse che mi disse ma è possibile che voi il presidente della conferenza episcopale italiana regionale dite tutti le stesse cose con le stesse parole con le stesse formule quando noi ci incontriamo la Chiesa quello che stanno facendo da domani è già tutto pronto lì tu puoi dire tutto quello che vuoi però non ne tengono conto questo va riconosciuto questo però determina che cosa e determina una visione monolitica che di fatto non c'è non c'è probabilmente in futuro quando gli strumenti di comunicazione la rete avrà più sviluppo noi avremo un cattolicesimo che anche lì comincerà a dare voci a esperienze diverse d'altra parte non riesco a capire quanta paura ci possa essere verso la pluralità il pluralismo intra ecclesiale visto che questa è una caratteristica che la ritroviamo pure nel Nuovo Testamento se c'è qualcosa di pluralità ecclesiale quello è il Nuovo Testamento non è forse così d'altra parte è tipica del dinamismo cristiano stesso della logica dell'incarnazione la pluralità l'incarnazione pensa al plurale mica pensa al singolare casomai è la tendenza alla costruzione dell'ideologia che pensa all'uniformità oggi noi siamo in una fase penso più con uno di dinamiche multiformi poco note e anche perché poi c'è anche questo che è anche una caratteristica negativa di tanto dopo concilio secondo me che i tanti movimenti ecclesiali che pure sono piuttosto vistosi in Italia non sanno dialogare tra di loro non solo ma non ricercano il dialogo tra movimenti con un'occasione di arricchimento reciproco perché un conto è dialogare in posizione di forza un conto è dialogare nella convinzione che forse l'altro può insegnarmi qualcosa a tal punto da modificare profondamente il mio modo di essere e la mia spiritualità se c'è qualche cosa che è tipico del plurale della chiesa è il pluralismo teologico sempre stato il pluralismo delle spiritualità delle scuole di spiritualità le tappo esposto treventina le ha realizzate tantissime le scuole di spiritualità quello che a cui assistiamo oggi è l'idea per la quale una spiritualità pensa di essere il tutto della chiesa e no non è così allora laddove l'incontro non è ricercato programmaticamente come incontro perché le diversità diventino di arricchimento di tutti e lì si viene meno a un criterio di fondo degli ecclesialità che è l'apertura all'altro e in Italia questo fenomeno è vistoso io ricordo 25 anni fa addirittura un incontro tra comunione liberazione azione cattolica e nancuna dove pendono fuori le scintille poi c'era cevesco Maccari che andò lì e disse ma in fin dei conti che diversità ci sono tra noi nessuna vogliamoci bene basta se non sapete più che cosa dire in realtà le diversità vanno tematizzate presentate e discusse ma con l'idea con la convinzione di fondo che dalla pluralità non è che deve nascere l'unità di pensiero ma deve nascere il riconoscimento reciproco l'unità significa questo che io riconosco che è la storia dell'altro a valore quanto la mia storia non deve essere annullata nella mia o io annullarmi nella sua perché il dinamismo ecclesiale non è il dinamismo partitico per cui alla fine bisogna trovare l'accordo no no è un incontro una discussione un dialogo permanente perché questo dialogo permanente non è altro che la permanente e continua interpretazione del mistero di Dio ci insegnano i romantici che la teologia è una interpretazione continua che non ha mai dei punti fermi risolto una volta per tutti e sul piano della prassi ecclesiale è così forse noi siamo abituati a pensare alla prassi ecclesiale questo sarà uno dei peccati che comunque sarà giudicato la chiesa di questi anni come se fosse una prassi politica con maggioranze e minoranze con manifesti manifesti da una parte manifesti da quell'altra questi meccanismi umani si capisce e credo che si conciliano male col mistero della chiesa la chiesa in questo senso non è democratica non ha questa una struttura democratica ha una struttura comunionale che è molto più della democrazia la democrazia punta all'accordo la comunità ecclesiale punta alla inclusione e alla valorizzazione delle diversità che tanti rimangono invece il processo politico tende ad accorparle le diversità qui no questo è il dinamismo che la chiesa nelle sue epoche più splendide ha saputo di fatto mantenere lo ha vissuto come c'erano i i come dire i colonizzatori che andavano a distruggere le indie nel nome di Gesù Cristo c'era Bartolomeo della Scassas che diceva il contrario talvolta bisogna rendersi conto che le prospettive sono per loro natura così distanti e mondiali fu il cristianesimo del futuro sarà questo però non sarà più grande quando avremo la possibilità di parlare a fondo con i cattologi cinesi che cosa verrà fuori sentiremo la nostra fede è declinata in un altro modo un'altra forma qui certamente c'è una cosa il dettato conciliare è la parola decisiva su questo è al concilio che si fa riferimento il concilio questo è chiarissimo della Gaudet spessa certo che in questo modo la Chiesa rivendica che cosa la dinamica pubblica che ha la Chiesa cioè il principio per cui l'esperienza religiosa si struttura nel mondo si struttura nella dinamica sociale non rimane ancora alta la vita individuale che è uno dei principi su cui si fonda il concilio Vaticano II libertà religiosa non significa soltanto la libertà di professare la religione come dato della coscienza come realtà di culto la religione si struttura si struttura nel dinamismo che per la Chiesa cattolica è il dinamismo delle sue opere delle sue attività delle sue iniziative certo qual è il problema che una dichiarazione di principio di questo tipo di fatto apre la storia apre la via a circostanze che saranno determinate dalla storia concreta cioè da quel momento in poi sono i dinamismi della società italiana che stabiliranno o che stabiliscono per il passato le forme di questa collaborazione in questo senso il concordato ha enunciato un principio che poi si riempie a seconda della storia di questa e di quella decisione questa volontà dirio di occupare lo Stato non mi pare che sia presente in quel dettato casomai la volontà di raffermare il principio per il quale l'azione della Chiesa è un'azione pubblica incide nella vita sociale altro è rivendicare il principio per il quale l'occupazione dello Stato avviene in questo quando si rivendica il principio per cui lo Stato è cattolico questa è l'occupazione dello Stato il resto non è l'occupazione dello Stato il resto è dinamica dinamismo di rapporti certo quello che in Italia pesa di più rispetto a tanti altri concordati è la presenza della Santa Sede non c'è dubbio non c'è dubbio perché perché di fatto un conto è la dinamica statuale della Santa Sede come Stato città del Vaticano eccetera altro è la storia che ha portato e che porta di fatto ancora oggi la Santa Sede a incidere in qualche modo nella vita politica stessa dell'Italia e questo dipende poi dalle circostanze dipende anche dalla forza delle istituzioni pubbliche o talvolta anche dalla debolezza delle istituzioni ecclesiali per esempio quando il Cardinale Bagnasco dice parole sue che la Santa Sede ha i suoi canali per intervenire si verifica le facende di questi giorni e dice una cosa che il Cardinale Carasaroli non avrebbe mai detto in vita sua che sarebbero i canali suoi per intervenire dove dovrebbe intervenire nella vita politica ma in vita politica intervengono i cattolici ma neanche i viscoli dopo certi in questa fase noi abbiamo assistito una forza di intervento diretto dell'episcopato italiano soprattutto dell'episcopato guidato nell'epoca di Ruini che è dovuta alla debolezza delle istituzioni civili questo non c'è dubbio e i rapporti della Chiesa e Stato scidano sempre a seconda della circostanza di forza di potere proprio effettivo che ha una o l'altra parte questo fa sì sempre che nei concordati soprattutto quelli dell'Ottocento si vede benissimo chi è che vince e chi perde subito in Italia questo dipende dalla dinamica sociale certo pensare che in qualche modo il corso alla revisione dell'Ottocento porti a prospettive di confissionalizzazione dello Stato penso che sia molto difficile caso come può avvenire un'altra cosa può avvenire che maggioranze con un votino delle leggi molto vicine alla sensibilità cattolica quali però dove starebbero queste maggioranze forse il concordato aiuta a pensare una cosa ecco perché dicevo l'ultimo dei concordati possibili perché tutto sommato il futuro della Chiesa non è nell'appoggio che può avere dallo Stato in questo o quell'appoggio sta nella sua libera dinamica e nella sua capacità di essere credibile l'indimismo è vero e questa è la Chiesa del Vaticano II se addirittura si rivede che si può rinunciare a privilegi legittimamente ottenuti in nome di una limpidezza dell'evangelizzazione significa che cosa? significa che questo strumento nel caso italiano ha una sua forza che vede la sua storia certo ma che poi è uno strumento che in fin dei conti tende ad esaurirsi proprio è chiaro che nel definire questa o quella cosa entrano in ballo tante altre questioni anche spesso di politica spicciola io penso per esempio a quella grande occasione perduta che è stata quando negli anni 70 la Lega Democratica propose il doppio canale per l'insegnamento della religione della scuola e la scelta che è stata fatta in fin dei conti sia dallo Stato che della Chiesa tutto sommato non è una grande scelta culturale per la Chiesa italiana per la cultura italiana però le scelte sono destinate a noi possono essere rinnovabili ma certo non mi pare tanto che sia un'occupazione l'occupazione del potere in altre forme viene che non sono più quelle del concordato certo però che i principi ispiratori fanno sì che il concordato italiano sia ormai una realtà che ha chiude un'epoca ha risolto i problemi del vecchio sistema confessionale ma questo strumento può avere un senso fino a un certo punto i percorsi di incidenza della vita sociale sono i percorsi di incidenza dell'evangelizzazione troverai strano che una nuova evangelizzazione come parlano gli episcopi italiani negli ultimi 15 anni cerchi di trovare strumenti di tipo concordatario non ne ha bisogno non sarebbero nemmeno recepiti poi come quando l'episcopato stesso ha la misura esatta della riduzione anche numerica del cattolicesimo italiano che è davanti agli occhi di tutti i concordati si sono sempre sviluppati nella storia attraverso presenze molto imponenti della chiesa in uno stato oggi la chiesa non è una realtà così imponente come sembra forse nella cultura nella smedia ma nella realtà vissuta penso che sia molto difficile pensare che il cattolicesimo oggi abbia chissà quale egemonia non ce l'ha fatto non ne pare e quindi in una generazione fortemente laicizzata come saranno le generazioni future non credo che la chiesa possa passare attraverso affermazioni di tipo concordatario non credo proprio però quindi sono riportato di una storia poi la storia ha le sue accelerazioni può anche darsi che uscita dalla padure di questi vent'anni la storia italiana abbia delle forti accelerazioni che portino ma anche a modi di interpretare i rapporti tra società civile e società religiose in forma diversa è il futuro che io voglio comunicare grazie a tutti grazie a tutti